Due procure al lavoro, quella di Foggia e la direzione distrettuale antimafia di Bari per sgominare una vera e propria organizzazione mafiosa ben radicata sul territorio e costituita da giovani. 14 gli arresti eseguiti alle prime luci dell'alba di oggi da polizia e carabinieri. L'operazione, denominata Malavita 2, costituisce l'epilogo delle indagini che si sono sviluppate dopo gli episodi criminali che hanno macchiato di sangue il capoluogo Dauno nel 2011. Durante la lotta tra i clan Moretti-Pellegrino e Sinesi-Francavilla culminata con gli omicidi di Giuseppe Genzani e Claudio Soccio. Traffico di droga, armi, rapine e distorsioni sono alcuni degli episodi criminali ricollegabili alla mafia foggiana. Centrale dello spaccio persino un'intera famiglia con il coinvolgimento dei fratelli Raffaele e Giuseppe Perdonò e dei loro genitori Nunzia Pollidoro e Giovanni Perdonò. Dalle indagini emerge addirittura il forte controllo della madre nella vendita della droga. Tra gli arrestati c'è anche Antonio Salvatore, storicamente vicino al clan Sinesi-Francavilla e ora capo di un'associazione armata dedita al traffico di droga. Secondo gli investigatori sarebbe responsabile di gravi rapine e distorsioni come quella di 25 mila euro ad un imprenditore avvenuta in piazza Povoncelli il 3 ottobre del 2011. Accurate le indagini delle due procure e delle forze dell'ordine che hanno fatto emergere i percorsi criminali per mezzo dei quali gli indagati acquisivano provviste economiche mentre prendeva corpo a Foggia una vera e propria guerra di mafia.